occhicetto andiamo al cinema e a vedere cosa c'è un bel film d'amore lui ama lei lei ama lui ma lui fugge con il cane la storia è triste però è d'amore no niente un film d'azione non c'è chi sarebbe tom cruise mission impossible 30 operazione ospizio bello 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 interessante interessante altrimenti 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 non lo so altrimenti altrimenti c'è non aprite quella porta ma è un film horror è vecchio e l'hanno fatto tanto tempo fa e poi già l'ho visto puro io ho visto già puro io a dove resti tu scusami qua a me casa quando torno dal lavoro e più che non cucinare niente a casa niente non ti dico serbaggia orribilante serbaggia puro serbaggia orribilante orribilis come l'hanno puro serbaggio grazie grazie